Primo fine settimana in zona gialla per le Marche, ma un allentamento delle misure ha portato centinaia di persone a riversarsi, in particolare in centro storico e sul lungomare, per passeggiate e aperitivi. Diversi però sono stati messaggi arrivati alla nostra redazione per segnalarci numerosi assembramenti, come in Corso Matteotti o in Via dei Borgogelli a Fano. Probabilmente, ci ha scritto il residente, sarà necessario inviare un esposto in prefettura, perché più volte abbiamo allertato le forze dell'ordine in vano. Segnalazioni arrivate anche da Pesaro e da Sant'Anna di Cartoceto. Questa invece è Via Ugolino di Pili, sempre a Fano. Sia sabato che domenica polizia, vigili urbani e carabinieri hanno eseguito controlli serrati ed elevato sanzioni a chi si è spostato senza un valido motivo e a chi non indossava la mascherina, soprattutto i giovani. Infatti, il ritorno in zona gialla è stata per tanti l'occasione di tornare alla normalità, ma il rischio è che si vanifichino tutti gli sforzi fatti con sacrifici sino ad oggi. Un appello al rispetto delle norme anticontagio arriva anche dal sindaco Massimo Seri. Devo richiamare ancora una volta l'attenzione sui comportamenti responsabili che ognuno di noi deve avere. È giusto che i ragazzi escano, devono fare vita sociale e siamo tutti d'accordo, però facciamolo con responsabilità. Quello che mi fa più arrabbiare è che ancora ci sono troppi che girano senza mascherina o perreno con la mascherina sotto il mento. La mascherina sotto il mento non serve assolutamente a nulla. Le cose stanno andando meglio, i vaccini iniziano ad aumentare, quindi andiamo verso una situazione migliore. Non vanifichiamo questi sforzi e questo percorso, perché poi è un peccato per tutti. Allora rivolgo un appello, in particolare ai più giovani, di indossare la mascherina e di evitare sembramenti tutti nello stesso posto. È possibile evitare tutto questo. Avverto anche che aumenterò i controlli e quindi chi girerà in gruppo senza mascherina o solto il mento verrà anche sanzionato. Perché io non sono per usare questi strumenti, perché dobbiamo essere tutti maturi e responsabili, però quando si persevra poi bisogna cambiare anche atteggiamento. Quindi veramente di cuore usciamo, facciamo le cose che possiamo fare, ma facciamolo con senso di responsabilità.